buonasera sono davide mingazzo di canale 5 oggi con la troupe ci troviamo a napoli precisamente a forcella dove si respira aria pura a forcella abita lo sposo che si chiama gennaro prospero poi andremo anche ai quartieri spagnoli dove abita annarella piedipiatti la nostra sposa di oggi signora buongiorno signora lei è la mamma di gennaro si sono davide mingazzo di canale 5 signora io sono venuto per assistere al matrimonio di suo figlio gennaro è solo questo ci mancava tra sito tra sito e pigliate una pastarella un piccolino vermouth a cui si mangia e va e va giove no io ho già detto una pastarella un poche vermouth ma voi vi state mangiando tutto coso che va da scipellucci che dite ma nata fa saluto su mortefamme dunque veniamo a noi il resto con il binocchio no è la telecamera ma di che cosa a cammeria e letti a cammeria di pranzo no telecamera signora io faccio sempre se la maggio facciamo che volete è contenta che si sposa al suo figlio gennaro contentissima da bassa nuova e che ricchi ma c'è fatta riempita per sposa a gennarino o quagliuncello a me ma bene che è fresca fresca e ciò leva sotto ma che dite signora ciò leva sotto ciò leva sotto non penso gli potrà servire avete ragione e suo marito dov'è? dove? la vicino alla fotografia era un bravo uomo e tu aveva passato nuova e morte buona signora ma non ha detto che era un bravo uomo? si si come morì il suo marito? come morì? con l'occhio chiuso e la bocca aperta dicevo di malattia o di disgrazia? al marito mi piaceva il pallone a New York e ti fa una parte delle pallone che compagni puoi sapere cosa faccia storti là? dove là? proprio là e tendere e non sai c'è più che attività faceva suo marito? era valuta incivile teneva pensione 600 mila lire ogni due mesi e campava con 300 mila lire un mese quando era bellissimo quando aveva il raccoglio non ci voleva mai perché non voleva andare signora? aveva ragione niente di meno che renda a posto aveva aspettato le tre ore per 600 mila lire diceva sempre se avesse a tornare rimane e chi ci è sicchio tutto studi e macadino per 600 mila lire e gennaaro lo sposo dov'è? stare in dobbani si sta lavando il raiere a sé ecco le nuovezze stocche? che lo raiere sarà? ma ha consumato già 10 fustini e tache mamma? ciao gennaaro come va come va? tutto ok tutto ok sei contento che ti sposi? tutto ok tutto ok lavori? tutto ok tutto ok che lavoro fai? tutto ok tutto ok ma che significa tutto ok tutto ok? il magazzino a tu fatichi si chiama tutto ok e che cos'è? è un magazzino all'ingosso e vestiti a seconda mano ah cioè usati? e seconda mano capisce a me roba rubata e a cattipi mamma e quando vengo o vengo per seconda mano ahum ahum ah ho capito roba rubata bravo beh parliamo un po' del matrimonio dove hai conosciuto annarella la tua dolce sposa? veramente mi vergogno lo dici eh e perchè ti vergogni? voglio di sapere e mi vuoi dire io che non ho scelto un coppia pavese e beh che vergogna c'è di dirlo? e va buono precisamente nel tuo bagno della pavese e stavo da sentire nel tuo bagno dell'uomo e che si asceva proprio all'acqua dal bagno degli uomini? proprio da mente da lì hai capito troppo buono appena mi avrete ma facete l'occhiolino e subito tutto ok tutto ok sentite ma muoio da casa la sposa si si vado subito dalla sposa e allora ci dici da così che stasera tutto ok tutto ok ok tutto ok tutto ok adesso ci troviamo dalla sposa buongiorno lei è la sposa? e questo chi è? papà fuori questo mammo si calmi io sono davide mincazzo di canale 5 sono stato già da gennaro il tuo sposo e che va dite? che stasera tutto ok tutto ok meno male meno male sei contenta che ti sposi? ja da quando conosci gennaro? dimana fa tre mesi ma sono già in cinque quattro mesi saluto perché già veniamo no no scusi senti quanti anni hai? precisamente 35 e 34 ma fra due anni faccio 33 anni che fai nella vita? a cantando giusto giusto adesso ci canti anche una canzone no no io con voi non posso cantare ma anche se mi ha dato un miliardo io ma canto solo a carabinire non ho capito io ma canto solo a carabinire secondo me chi sta in un matrimonio sbagliato e perché? ma come giornare e roba è tutta canta? e che volete fare? come si riesce? anche se si appare in giro e se si appare in terra Gennaro Prospero sei in arresto? e perché? l'annarella la tua fidanzata fa la cantante? no no non canta invece si che canta? come fa cantante? e che ha cantato? ha cantato due canzoni su di te sei in arresto mi chiedevo ho fatto un testo mi chiedevo mi chiedevo mi chiedevo mi chiedevo